Tesori di Provenza. Dal potere anti-età dell'olio d'oliva bio, nuovo siero estratto di giovinezza. Il mio lisir di bellezza, con acido ialuronico e 5 volte più concentrato in antiossidanti che leviga e rassoda la pelle. Scopri i prodotti del tuo rituale di giovinezza. Tesori di Provenza. Per una bellezza senza tempo.